buongiorno qua è genio del tubo che vi parla e faccio un video un po particolare oggi voglio recensire un gioco che si chiama appunto traffic reader e questo video è dedicato a rastro un altro youtube che gli piacciono molto i videogiochi di moto e quindi questo video regalo gli consiglio di scaricare l'applicazione traffic reader cioè sia per ios che per android e niente siccome lui mi ha sponsorizzato in un suo video ha sponsorizzato il mio canale voglio fare questo video per lui e comunque se volete essere sponsorizzati anche voi cercate su youtube rastro rastro sponsorizzami e vi trovate le istruzioni per come fare e adesso vi faccio vedere come funziona il gioco carriera per esempio sono un povero nessuno come a piccola fiammiferaglia non ho soldi per comprarmi una nuova moto perciò faccio una missione precedente questa per esempio vediamo sentite come rumba dai che ce la facciamo non in tutta la velocità massima è bello fare è bello fare con le moto è un po' meno bello fare gli incidenti segreti che ci ha faccio questa guardate che bella questa moto è anche notte è una scioperta si può giocare se di notte sotto la pioggia col sole tutto è bello non piace che te fa come fa più di 101 fiume che allora non va non c'è questo che potrebbe stravido la galleria sentite che è 14 ok? ma che palle stavo vincendo questa moto di merda fa schifo portate la rotta mare no a parte le cazzate però comunque questo gioco qua è davvero molto realistico anche grafica molto reale a partire che faccio il stupidino però ve lo consiglio è davvero molto divertente io gli ho dato 5 stelle questa applicazione vabbè per oggi è tutto alla prossima